E' stata da brivido sette... Sìììì! 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 Beh, eccola! La mia casa del bosco è una nuova. Ehi! Che è successo, Aleluigi? Tranquilla tesoro, non puoi assaggiare il fulgine. No, non puoi! Lui potrei mettere la cuore! Si, l'ha già toccato! Un chilo di popcorn! Lo so, beh, un po' di... E poi ci passerai! Scusa! Scusa! L'ha sentito? Ora ti ho detto che sono uscita con quel ragazzo! Davvero? Un appuntamento! Lo so! L'ho lavata! È diventata piccola così! L'abbiamo! Interrompiamo la trasmissione per un'ultima ora. Caos e distruzione nel centro di Metropolis. I cittadini stanno fuggendo dalla città per salvarsi la vita! In centro! Non è lontano da qui! E potrei testare la mia ultima invenzione! Devo solamente prenderla dal covo! Al va-tavolo! Marta, non posso infilarmi in fondo con le ginocchia ridotte in questo modo! L'entrata segreta! No, 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 no! Ehi, là! Mi dispiace tanto, ma questo tavolo è riservato e... Prendiamo tre banana split! Eh, banana split? Ma senza banane! Eh... Esploreremo insieme il ricco abitato... Che stai facendo? Dove vivono alcuni animali più belli... Che stai mangiando, eh? Cotenne di maiale! Ehi! ...della sopravvivenza! Solo gli animali più forti e più astuti sopravvivono fino al giorno dopo! Che noia! Guardiamo qualcos'altro! L'ha sbattuto al tappeto! Lei è inattaccabile adesso! Deviler deve riprendersi alla svelta! Aspettate! Che succede? Che sta facendo? Che... Ogni animale, quando si affaccia al viaggio della vita, è un piccolo molto vulnerabile! Guardate questo cucciolo! Non è adorabile! Si intenta... Non è adorabile! Non è adorabile! Non è adorabile! Non è adorabile! Che fossa! Potrebbe essere finita, gente! Potrebbe essere finita! No! Aspettate! Devai fare a qualcos'altro, gente! Questo cucciolo? Avete visto? È stata... Non è lontano! La legione dei cacciatori di zombie ha deciso che tu non vedrai mai più quella ragazza! A dire il vero... Potresti... Perdonami, ti blocco la visuale! Troviamo subito una soluzione! Grazie! Ops! Mani di pasta frolla! La legione dei cacciatori di zombie vuole separarci! Niente! Joe è tipo... Potrà mai separarci! difendendoli! Ogni animale deve cominciare il suo viaggio! Uno! Due! Aspettate! Che cos'è? Non ho mai visto questa mossa in tutta la mia vita! Ritmi circadiani! Oh no! Un predatore è passato fuori dai cestuoli! Fortunatamente! Fuori dai cacciatori di zombie! Ah! Ué,uca! Ah! Da! Dammelo! Ridamelo! Ah! Oh! Tra poco a make it wayne! Oh! Ah! Non può essere! Eh? Ah! Il приятно! Davvero? Come? Ma guarda, 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 quello scopo! Io ti amo molto, molto, molto! Niente potrò mai dire... Ma che è? Amore! Dai! Torni qui! Che idiota! Mi sta rovinando il film! Non lasciarti un fare le forze del male! Ho permesso io ai cacciatori di zombie di impedirmi di vedere Caitlyn? No! Tu devi lottare per la cosa che ami di più! Hai ragione, Eden Immaginario! È ora di dimostrarle chi sa pungere di più! Dovrete passare sul corpo mio! Questo film non è niente male! Stupido insetto! Sto cercando di vedere un film! Cosa? Ma che è? Ah! E ora arriva l'ultimo atto! Ah! Non potrei mai separarmi da Eden! Il nostro amore è forte, cioè tipo come una grande montagna! Fine! Sì! 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 Grazie a tutti.